Innanzitutto le chiedo le condizioni di Grassadonia, che cosa è successo? Lei era in panchina, poi è stato anche espulso tra l'altro, volevo sapere che cosa è successo, se ci può raccontare quei minuti, visto che lei era a pochissimi metri. Il mister questi due giorni ha avuto un po' di influenza, febbre, e quindi oggi è svenuto in panchina. Se si è sentito male è svenuto, però adesso è tutto a posto, ha preso conoscenza e sta bene. Ma è stato trasportato in ospedale o è con voi? No, no, no. Quindi rientra con voi a Pescara? Rientra con noi a Pescara tranquillamente, sì. Quindi mi sembra di capire un calo di pressione. Un calo di pressione, sì. Lei mi parlava poco fa di febbre, di sintomi influenzali, calcolando che c'è stato anche un caso di Covid nel vostro gruppo squadra, una cosa riconducibile, se ci può fare anche un po' di chiarezza, un po' di quello che è successo. Ma non pensiamo che sia questo, pensiamo che comunque abbiamo avuto degli sbagli di temperatura qui in ritiro, siamo passati dai 20 gradi ai 7-8 gradi nel giro di poche ore nel corso di allenamenti. Quindi penso sia stato un fatto così, perché ieri sera comunque abbiamo fatto un'altra serie di tamponi e siamo usciti tutti quanti negativi, quindi escludo in questo momento qua questa situazione di Covid. Quindi il caso di positività è stato il gestorio comunicato ieri sera, questa mattina, se ci può anche… Ieri sera. Ieri sera. È un giocatore, presuniamo, titolare da quello che abbiamo potuto vedere in campo. Un nostro calciatore, sì. Ci può dire qualcosa in più? Per Pravesi non possiamo dirlo, però penso che se uno fa uno più uno penso che si riesce a capire chi sia. Vabbè, sì. È relativa questa cosa. Va bene, grazie. Posso fare, ecco, entrando invece, giudicando, analizzando la partita, Antonio Bocchetti, intanto buonasera. Buonasera. Allora, primi 30 minuti, Pescara molle sotto ritmo a corso a vuoto. E poi volevo chiedere, è chiaro che forse sarebbe più opportuno, però per ovvi motivi non c'è, Grassadoni, anzi, gli auguriamo le migliori fortune, ma sappiamo già che sta bene e questo ci fa molto piacere. Perché Odegaard esterno, che ci è sembrato un po' una forzatura, era una scelta conservativa per limitare la spinta magari di Payaz? Io l'ho interpretata così. No, perché questa è una squadra che comunque attacca molto in avanti e quindi c'erano 40-50 metri da sfruttare in contropiede, quindi non sfruttare in questo momento questa terra dove una squadra divenne a prendere alta poteva essere un'arma in più per noi. Sia lui che Odegaard comunque attaccano bene la profondità, abbiamo pensato che questi 40 metri erano da sfruttare. Non siamo stati capaci di farlo, soprattutto nel primo tempo, siamo partiti malissimo. Per questo ci dispiace perché potevamo e potevamo fare molto meglio. Buon pomeriggio. Per quanto riguarda la classifica sono due punti persi, però per quanto riguarda la partita penso che il risultato può essere giusto. Buonasera direttore, le chiedo... Buonasera. Valerio De Carolis, forza pescara. Lo so, lo so. Nel momento migliore del pescara è arrivato il pareggio, lo possiamo tranquillamente dire, però le chiedo per quale motivo puoi passare con la difesa a tre? C'è l'utilità di difenderlo questo pareggio? Valerio, ti spiego subito. Questo non ho parlato prima con il mister perché sapevo di questa domanda. Lui mi ha detto che Busellata aveva chiesto il cambio e il maestro era stato già munito e quindi era molto stanco. Avevamo Odgar che aveva fatto un primo tempo quasi da terzino destro, quindi abbiamo cercato di mettere le due punte vicine per cercare comunque di sfruttare i famosi 40 metri da attaccare. E mettendo un difensore in più è stato solo una questione di tenuta della squadra, non assolutamente per conservare i risultati. Quindi si poteva fare allora dall'inizio, mi verrebbe da pensare, no? Cioè se Odgar è stato poi accentrato, perché secondo me il ruolo di Odgar è quello di punta centrale o di seconda punta, allora si poteva fare da subito? No, perché loro avanzavano molto con i terzini, quindi noi dovevamo sfruttare... Quindi mi stai dando ragione Antonio, per limitare le incursioni di Payaz, cioè c'era anche una scelta conservativa in fase di non possesso, quello intendevo chiederti prima. Sì, perché se si alzano molto i terzini, lasciando i due difensori centrali completamente con un solo attaccante nostro, è normale che uno degli esterni è sempre libero. Dovevamo sfruttare questo meglio. Non c'è riuscito assolutamente, perché loro, oltre che una squadra di qualità, il nostro approccio alla partita è stato negativo. Direttore, buonasera. Buonasera. Sì, ben ritrovato. No, sul gol del Pescara preso, Antonio, ti dico del tuo... Sì, sicuramente, sì. Assolutamente. No, ti voglio chiedere anche perché tu sei stato difensore. Se noi prendiamo sempre gli stessi gol, non so se condividi, lo stesso l'abbiamo fatto con l'Ascoli oggi, l'azione successiva quando ha perso palla Fiorillo, mi ha mancato disimpegno. Cioè che noi negli ultimi venti metri difendiamo bassi, non andiamo più a... non ci difendiamo in avanti, ma cerchiamo solo di proteggere la porta. Oggi è la stessa cosa, cioè la difesa non riesce a uscire su queste palle ai venti metri perché siamo sempre molto bassi e non difendiamo in avanti. Noi dovevamo assolutamente accorciare sul portatore di palla. Siamo abbassati, ma noi abbiamo preso gol sul nostro fallo laterale. Non ricordichiamoci che noi abbiamo avuto il fallo laterale di Belanova, dovevamo fare uno schema, quello di far passare la palla all'interno per andare a fare il cambio del gioco. Abbiamo perso palla e quindi c'è stata la squadra che era molto aperta. Quindi è stato un nostro errore, soprattutto una nostra mancanza perché la palla c'è noi. Quindi è normale che si sia abbassato per cercare di recuperare palla e invece dovevamo andare a accorciare sull'utilatore di palla. Perché poi... Con il tiratore. Lo aggiungo Antonio, prendiamo sempre gol a difesa schierata, cioè anche con l'asco, ricordo, il gol allo scadere. Cioè in sopra il numero, però sempre bassi e mai che difendiamo in avanti. Dobbiamo cercare di prendere assolutamente riferimenti perché va bene difendere a zona, ma a volte i riferimenti vanno a presa a uomo. Assolutamente sì, dobbiamo migliorare soprattutto in questo perché noi pecchiamo in questo. Tanto è successa la stessa cosa nel primo calcio d'angolo, eh? Sulla 0-0. Sì, sono andato a duello e poi si è sfilato il loro difensore. Però diciamo che sul primo contrasto siamo stati bravi a prendere palla. Parliamo sempre di un giocatore di un metro e 95, quindi c'è anche la bravura loro. Ce la deve fare, dobbiamo provarci, dobbiamo crederci, stiamo cercando di fare punti, di continuare ad avere un palleggio e un approccio alla partita diverso. Queste ultime due partite noi le abbiamo fatte, oggi siamo partiti male. L'ho detto anche l'altra volta, se noi approcciamo bene le gare, la nostra inerzia, soprattutto in fase d'attacco, è diversa. Se noi approcciamo le partite in modo passivo è normale che poi la partita non viene buona. Direttore, sono ancora Igini Marzio. Io le volevo fare una domanda su Seter, devo sapere cosa è successo. Una distorsione. Una distorsione sul fallo che ha fatto... Anche lì va bene l'ammunizione, ma onestamente ci aspettavamo una cosa in più perché è stato pieti pari sulla caviglia di Seter. E poi la seconda è una riflessione che poi è l'anticamera della domanda. Su Riccardi, oggetto misterioso, finora è stato anche molto sfortunato, parecchie volte infortunato. È entrato benissimo. Con lui in campo il Pescara ha fatto anche un paio di interventi in fase di non possesso molto molto importanti. Volevo chiedere se potrà essere un giocatore che in queste ultime partite potrà essere preso in considerazione anche da titolare. Sono d'accordo. Riccardi è un giocatore importante, giocatore che ti fa superità numerica, ha velocità, ha il guizzo. La gestione di Riccardi è stata sbagliata assolutamente da noi, non è colpa del ragazzo. Poi è normale quando non giochi, per un ragazzo giovane è sempre molto triste, però la gestione di Riccardi non è assolutamente mancanza sua, ma è stata una mancanza nostra perché non l'abbiamo quasi mai sfruttato per le caratteristiche che ha. Qua ha avuto pure alcuni infortuni che hanno rallentato comunque il suo inserimento in squadra. Ma questa non era la partita per Vokic, Antonio? Visto che ha fatto molto bene a Monza. Avevamo bisogno di più profondità in fase d'assalto. Non ci è visto perché non l'abbiamo fatta. E questa è stata una nostra mancanza. Però normalmente la difesa del Vesce era sempre molto alta e normale che avevamo i 40 minuti di campo dietro e potremmo sfruttarlo meglio. La tua espulsione, scusami, nasce da che cosa? La mia espulsione mi sono arrabbiato perché quando il mister non si è sito bene si poteva cercare di avere un pochettino di fair play in più da parte del Vesce. Invece la palla poteva tranquillamente andare verso il potere di cominciare l'azione invece di incominciare a 10 metri alla nostra porta. Era solo questo, un disappunto, ma non sono stato maleducato, anzi è stata una protesta molto civile. E non male che poi il quarto vuole mi abbia espulso, ma non è stata assolutamente nessuna maleducazione verso gli arbitri. Ma lei se l'è presa col... Lei non ha puntato il dito verso l'arbitro? Mi sono alzato, mi sono alzato e quindi uno che sta in panchina aggiuntiva non si può alzare dal proprio posto.